In sintonia con il percorso tracciato dal candidato presidente Luciano D'Amico è l'ascolto dei territori tra eccellenze da valorizzare, problemi da affrontare e risolvere, la via maestra lungo la quale il Partito Democratico abruzzese si muove in vista delle elezioni regionali del 10 di marzo. E nella Marsica, per rafforzare ancora di più il legame che in Casadem si vuole creare tra tutti i livelli istituzionali, è arrivata la segretaria nazionale Ellie Schlein. A Yelli, Celano, Santemarie, Tagliacozzo e Avezzano le tappe di una giornata intensa che ha visto Schlein toccare con mano esigenze, proposte e buone pratiche. Tra i temi toccati la situazione del comparto agricolo, il lavoro, il nodo della violenza di genere e il contrasto allo spopolamento delle aree interne. Qui in Abruzzo ci sono delle realtà resistenti che stiamo incontrando e che ci dimostrano veramente una storia diversa, che è possibile sul proprio territorio fare un investimento di un nuovo modello di sviluppo, che crei progresso, che crei opportunità di lavoro, che crei buona impresa. E noi in questo chiediamo molto ed è il motivo per cui sono i tasselli fondamentali del programma attorno a cui la coalizione che si è riunita per sostenere Luciano D'Amico sta puntando. Una coalizione davvero che dimostra che si può, attorno a proposte molto concrete, costruire un'idea di futuro comune e condivisa che ha unito tutte le forze alternative alle destre attorno a una candidatura forte e credibile come la sua. Elish Line poi ha rivolto un'attenzione particolare alla sanità, che al pari di occupazione e formazione è un concetto cardine del programma costruito da Luciano D'Amico con il patto per l'Abruzzo. In Marsica, tra l'altro, il nodo riguardante presente e futuro delle strutture ospedaliere è assai sentito. Non è un caso che la segretaria Demme Elish Line abbia scelto nel corso della sua giornata marsicana di visitare i nosocomi di Tagliacozzo ed Avezzano, tenendo poi il suo punto stampa davanti all'ingresso del Santi Filippo e Nicola. Siamo qui perché vogliamo ascoltare i lavoratori e le lavoratrici della sanità pubblica che sta soffrendo moltissimo. Sta soffrendo per una mala gestione della giunta regionale di Marsiglio, sta soffrendo perché da 15 mesi c'è un governo che non crede nella sanità pubblica, che ha tagliato risorse alla sanità pubblica e ha allungato in questo modo le liste d'attesa. Non può essere la risposta alle liste d'attesa che si allungano fino a tre anni per una visita specialistica quella di dire che deve lavorare di più il personale esistente, perché molto spesso il personale esistente è insufficiente nei reparti. Anche in questa struttura c'è una forte sofferenza dell'emergenza urgenza, così come in tanti altri ospedali, soprattutto qui in Abruzzo. C'è un problema di sbloccare le assunzioni di nuovo personale che possa ritornare a far vivere questi reparti. C'è un problema anche di visione di una sanità territoriale che non ha questa destra, perché non ci crede. Invece la pandemia dovrebbe averci insegnato qualcosa. E cioè che non basta una rete di ospedali di qualità nelle grandi città, serve una risposta che si avvicini a dove le persone esprimono il loro bisogno di cura. Altrimenti lo percepiranno come un diritto a metà. L'ospedale di Avezzano è stato oggetto di un'ipotesi di ristrutturazione e di creazione di un nuovo ospedale. Mi sembra che più che di un progetto si possa parlare solo di un proposito, visto che non esistono progetti. E immaginare di poter illudere gli abruzzessi che solo presentando dei rendering molto belli e interessanti si risolvono i problemi di assistenza sanitaria, davvero è una presa in giro che non possiamo tollerare. Siamo qui proprio per dimostrare e rivendicare un'azione molto più incisiva che renda di nuovo alle abruzzessi e agli abruzzessi il diritto alla salute.